Sindaco, grazie all'intervento della Regione l'ex IPAB di Città Sant'Angelo torna a nuova vita. Sì, diciamo l'ex IPAB di Città Sant'Angelo, la casa di cura Sgaroni, perché così la casa di riposo Sgaroni, così la individuiamo meglio, torna ad avere la possibilità di un rosio futuro. Ma questo sì grazie alla Regione Abruzzo, ma soprattutto grazie a colui che ci ha lavorato e ci ha creduto al primo momento, che è Dario Recubini, che da prima è stato colui che ha preso l'ex IPAB e poi con il riconoscimento regionale dell'ASP che ha portato in porto questo progetto importante. Una casa di riposo che ha bisogno di 1.600.000 euro di finanziamento per la ristrutturazione, che è stata vincitrice di un bando regionale che appunto prevede la ristrutturazione di siti a valenza sociale e quindi finalmente sarà ristrutturata. Insomma, stiamo cercando con la nuova legge di riforma delle ASP e anche con queste misure di dare alle ASP la gloria che forse prima avevano e che oggi purtroppo con il tempo, con i pochi finanziamenti, hanno un pochino perso la luce. Ricordo che a Città Sant'Angelo c'è un'altra struttura, che è la Casa del Sole, che anche questa, grazie a un finanziamento regionale di 270.000 euro, è stata destinata ad accogliere ragazzi e adulti autistici. Stiamo cercando di, come dicevo prima, con fondi aggiuntivi, di far sì che questo patrimonio importante lasciato da famiglie importanti di epoche passate e possa tornare a risplendere come giusto che sia.